Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato da Rete Informatica Academy. Vi chiedo cortesemente di dirmi se mi sentite correttamente, se qualcuno mi scrive in chat. Grazie Fabio, ciao Alessandro, ciao, grazie a tutti e bentornati. Ci sono nomi che comunque vedo spesso a questi nostri incontri. Sono Maria Luce Villa, Brand Manager di Performa Group, di cui Rete Informatica e Lavoro fa parte. Approfitto, siete in tanti questa sera, se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro vi invito a consultare le tante offerte pubblicate sul nostro portale. Ma Rete non è solo questo, quindi vi invito sempre a seguirci in questi webinar tecnici del giovedì sera. Questa sera torniamo un po' a parlare di sviluppo con questo webinar dedicato a Docker, molto di moda quanto pare dal numero di iscrizioni che abbiamo ricevuto. Quindi la piattaforma per creare, testare e distribuire applicazioni in modo rapido. E lo facciamo grazie al nostro relatore di questa sera, che tanti di voi conoscono già, che è Ugo Betori, sviluppatore web docente, che abbiamo il piacere di ritrovare questa sera. Buonasera Ugo, bentornato. Ecco, l'abbiamo, ecco, eccola. Buonasera. Perfetto, buonasera, bentornato, grazie di essere con noi questa sera. Come sempre, le regole del webinar sono, siete veramente in tanti, se per favore scrivete le domande soltanto nella sezione domande. Ugo risponderà come sempre nella parte finale. Vi ricordo che questo webinar lo troverete già domani mattina sul nostro canale YouTube, dopo vi salvo in chat il link. E io lascerei la parola a te, Ugo, così almeno, magari alla fine abbiamo più tempo per le domande. Va bene, va bene, grazie. Grazie mille, buona webinar a tutti. Allora, buonasera a tutti. Infatti mi sono a mettere un po' i settaggi. Dunque, noi parleremo di Docker. Cosa succede qua? Allora, dovrei anche condividere qualcosa in genere. Prima, magari devo aprirlo. Dunque, webinar. Introduzione al Docker. Eccolo qua. Lo condividiamo? Ma condividiamo tutto, non si ne parla più. Ok. Ok, vedete, dovreste vedere, aspettate che... Ok, mi pulisco un po' lo schermo. Dovreste vedere le slide che ho preparato per l'occasione. Sì, sì. Ok, no, a nulla. Ok, perfetto. Finalmente ce la possiamo fare. Allora. Introduzione. Ovviamente Docker, ovviamente nel senso che, insomma, già il claim col quale si reclamizza, si propone, è quello appunto di essere uno strumento di containerizzazione. Che cos'è la containerizzazione, detto in poche parole, è attualmente, diciamo così, uno degli approcci più moderni per sviluppare e distribuire le applicazioni, soprattutto se sono basate su microservizi, perché microservizi in genere, anzi in genere, sono sostanzialmente microapplicazioni con compito, ognuna con un compito ben specifico, che poi possono dialogare tra di loro, anzi devono dialogare tra di loro, in modo da comporre, diciamo così, una macro, chiamava così, macroapplicazione, macroservizio, che fornisce, insomma, diverse funzionalità. Il vantaggio di utilizzare microservizi sta nel fatto che ogni singolo elemento dell'applicazione, diciamo, ha un suo ciclo di vita, ha un suo team, in genere, questo è poi degli scopi di microservizi, in genere un piccolo o medio team, insomma non tantissime persone si dedicano al singolo microservizio, e ogni team ha il compito ovviamente di portare avanti il progetto, di svilupparlo, di fare il cosiddetto deploying, pubblicarlo, nell'ottica, seguendo, scusate anzi, seguendo il trend attuale che si sta imponendo negli ultimi anni, cioè quello di fare tutto il più in fretta possibile, al minore costo possibile e, insomma, con i risultati migliori possibili. E l'approccio a microservizi punta proprio, fornisce degli strumenti, proprio una filosofia proprio utile a questo scopo. Che è il contrario di quanto si è fatto e ancora oggi si può fare, nessuno impedisce, soprattutto se sono applicazioni appunto non recenti che quindi hanno un'eredità di un certo, di un certo, un qualche anno, diciamo, l'approccio classico che appunto, al quale si contrapone quello dei microservizi, di avere un'unica applicazione mostro che è in grado di svolgere tutti i compiti necessari, ma che richiede ovviamente un grosso team, grosse fasi, diciamo, chiamiamole così, di comunicazione tra i vari membri del team e tra i vari team, perché, insomma, il concetto di programmazione agile o il concetto di DevOps, la metodologia DevOps, puntano a coinvolgere tutti gli interessati, gli stakeholder allo sviluppo del progetto, da tutte le figure non meramente dedicate solo allo sviluppo. Non insisto tanto sui microservizi, che immagino che alcuni di voi già li conosceranno, il concetto poi è abbastanza semplice e, insomma, le slide, come sempre, verranno poi distribuite e rese disponibili sul sito di Performa. Che cos'è un container? Sicuramente molti di voi avranno già avuto a che fare con le macchine virtuali. Le macchine virtuali cosa ci permettono di fare? Ci permettono, ci danno un ambiente in cui caricare un sistema operativo, che so, un Windows piuttosto che un, beh, il Mac adesso è un po' difficile, ma comunque meno facile di qualche anno fa, oppure un Linux, più comodamente, su una macchina ospite, su un host che tipicamente sarà diversa dalla macchina, dal sistema operativo che si vuole virtualizzare. È una fantastica cosa, si usa tuttora, ma lo scopo del container è quello di snellire ulteriormente, di fornire, diciamo così, una sorta di macchina virtuale ridotta all'essenziale. E infatti il container è proprio questo, cioè una piccola macchina virtuale, diciamo così, che però per le funzionalità più corpose, più pesanti, più quelle che occupano più spazio, anche fisicamente nel hard disk, si appoggia appunto alla macchina host, cioè nel mio caso al Mac o alla macchina Windows, insomma la macchina su cui andremo poi a far girare la nostra versione di Docker. E mentre appunto in questo container che cosa viene incaricata? Un'immagine dell'essenziale che è necessario a far funzionare la nostra applicazione. Dopo vedremo degli esempi in cui senza la necessità di installare chissà quale sistema operativo per avere lo stack di produzione, che so, con Apache, PHP, MySQL, eccetera, eccetera, è possibile appunto affidarsi alla macchina, alla macchina locale per quanto riguarda le caratteristiche fondamentali e più pesanti, mentre il container ci fornirà solo quanto necessario a far girare Apache, a far girare, nel nostro esempio, PHP su Apache e a far girare MySQL in modo tale che si ottengano risultati migliori con un minor dispendio di risorse possibili. Chi ha provato ad usare una macchina virtuale sa cosa intendo, nel senso che far girare una macchina virtuale con un altro sistema operativo sopra significa far girare sostanzialmente su un unico processore, su un unico, con un'unica dotazione di RAM e di hard disk, due sistemi operativi che francamente comincia a essere pesanti. Docker è una piattaforma appunto, open source tra l'altro, che propone appunto la sua modalità di containerizzazione. Le caratteristiche, diciamo così, della containerizzazione per scendere che siano fornite da Docker o meno, sono ovviamente, abbiamo detto, leggerezza, la massima, si sfrutta il kernel del sistema operativo su quale gira il container e poi si lasciano, si lanciano, si utilizzano quelle immagini necessarie a realizzare il proprio il proprio compito, i propri obiettivi, le proprie applicazioni. Beh, io qui non direi che non sto neanche a indagare troppo su questi dettagli, lascio a voi. Ovviamente portabile, questo va detto al minimo, nel senso che è facilissimo trasportare uno stack, diciamo così, oppure una serie di container, con una serie di immagini da una macchina all'altra, come vedrete, si fa nei nostri esempi, che sono ovviamente esempi adatti a un webinar, cioè abbastanza light e semplici, almeno in questo primo incontro. Vedete che, insomma, bastano poche lighe di codice e qualche secondo di pazienza per cominciare già a produrre, a creare un proprio ambiente di sviluppo che può essere facilmente portato su altre macchine, come, ma con i vantaggi e la leggerezza, così va a fare appunto con una macchina virtuale. Altra caratteristica importante, quella che, insomma, deriva riguardo alla sicurezza, Docker è nato in ambito Linux e da Linux è realizzato parecchie caratteristiche interessanti, tipo quello grazie al quale è possibile gestire al meglio la sicurezza, che sono sostanzialmente in namespace, possiamo paragonare, per farla breve, a delle sandbox, cioè degli ambiti in cui girano i container con le varie immagini che sono isolati dal resto della macchina, quindi questo già rende il singolo container, o la macchina sulla quale girano i più container, abbastanza sicuri. All'interno dei container poi è possibile utilizzare strumenti di Linux nati appunto per aumentare il livello di sicurezza delle applicazioni, come per esempio i control groups, che vengono a fornire una serie di strumenti utili a questo scopo. Vantaggi? Sicuramente, come detto, è molto semplice, molto rapido anche configurare, realizzare, caricare il container con all'interno le immagini necessarie e su queste poi far girare le proprie applicazioni con le tecnologie che sono utili appunto all'applicazione. Secondo alcune stime, anzi secondo alcuni report di Amazon Web Service, che fornisce un sistema tra l'altro di containerizzazione, gli utenti, come leggete, riescono a distribuire con una frequenza e quindi con un'attività e implicito in media superiore di sette volte al consueto. Ed è proprio, come dire, il risultato, l'obiettivo che la containerizzazione vuole proporre all'interno del modello DevOps o Lean, cioè velocizzare il numero di... la frequenza e i tempi di sviluppo di release di nuove versioni dell'applicazione. e poi vantaggi ne abbiamo già accennati. Meno risorse anche umane necessarie a portare avanti il compito e massimo sfruttamento delle risorse del sistema senza dover sovraccaricarlo appunto con, per esempio, vaccini virtuali che, abbiamo detto, sono veramente pesanti. C'è la possibilità di incorrere, quando si affronta un'applicazione piuttosto complessa che contengono molti layer o molte immagini, insomma, al loro interno, molte tecnologie, diciamo così, utili allo sviluppo dell'applicazione, l'esecuzione della stessa, a questo punto è possibile utilizzare un altro strumento del quale parleremo in seguito, Kubernetes, grazie al quale è possibile orchestrare più container in modo tale da creare appunto una struttura di diversi container, ognuno dedicato a svolgere un determinato compito con le caratteristiche necessarie software, e far orchestrare appunto questi container in modo tale da ottimizzare e pianificare anche, appunto, l'attività relazionale, diciamo così, tra più container all'interno di un'applicazione, che è utile ad un'applicazione. Dunque, cominciamo a dare un'occhiata al sito, qui ci torniamo dopo per vedere qualche dettaglio più tecnico. Ovviamente il sito di riferimento è docker. Tempi di attesa classice. Sto dicendo un dramma, quello dei cookie, e delle policy. Un grosso dramma. Forza, su! Forza! 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 Sul sito ovviamente abbiamo la possibilità di avere, intanto di scaricare alcune versioni di docker, noi useremo una versione, come dire, ad uso che ci interessano, quindi senza, ad uso personale, insomma, senza dover incorrere particolari costi. C'è anche, ovviamente, con tutte queste piattaforme, questi strumenti di sviluppo, si basano anche molto sul cloud, quindi ci sono tutta una serie di strumenti anche che favoriscono questo tipo di attività. Per quello che ci riguarda, i prezzi, insomma, sono... I prezzi non ci vogliono dire, ma va bene, non ci interessano. Possiamo scaricarci la nostra bella versione desktop, oppure usare una versione, appunto, sia desktop che basata su cloud, con un piano, appunto, gratuito, come quello che vediamo in questo caso. Per i nostri scopi noi utilizzeremo semplicemente la versione desktop, che è disponibile per i vari sistemi operativi. Vediamo l'opera. Io, ovviamente, l'ho già installato. L'installazione, come sempre, è l'operazione meno complicata di tutte quando si affrontano questo tipo di attività. Vediamo un attimino la mia versione docker desktop. Eccola qui. Questa è l'interfaccia di partenza. Docker si può utilizzare sia con questa interfaccia minimale grafica, sia, come faremo noi soprattutto, visto che useremo specialmente oggi comandi abbastanza semplici, introduttivi, sia, appunto, o mediante strumenti di comando. Se diamo un'occhiata rapidamente all'interfaccia del client, abbiamo a disposizione già, vediamo, sostanzialmente, quali sono gli argomenti, tra l'altro, che tratteremo, inevitabilmente, cioè i containers, e in questo momento non abbiamo containers attivi, perché ho preparato un ambiente in modo tale che fosse pulito. All'interno di container possiamo avere uno o più immagini, appunto, quei layer, diciamo così, quei livelli tecnologici, tipo un server Apache, un server web, piuttosto che un database, un server database, e quant'altro, che appunto possono essere messi insieme all'interno di un container, o di più container, orchestrati appunto con Kubernetes, per realizzare quanto ci serve. Un altro aspetto interessante, di cui tratteremo, sono i volumi, la possibilità di, che cosa? Di lavorare con il file system della macchina locale. E questo è molto interessante, perché ci permette, appunto, di salvare in maniera persistente quanto è necessario, in alcune occasioni, a mantenere in piedi correttamente le nostre applicazioni. E poi c'è una parte dedicata a strumenti di creazione di ambienti di sviluppo, che francamente non gli interessano, e poi comunque non sono assolutamente gratuiti. Ok, se torniamo alla pagina principale, vedete che la prima cosa che ci propone l'applicazione desktop è, ci dice, guarda che non abbiamo ancora nessun container in attività, prova a lanciare un container copiando e incollando questo codice nella, su una linea di comando, ok, su un terminale, insomma. Lo copiamo e vediamo anche cosa succede. E lo eseguiamo. Ugo, scusami, riusciresti a fare un po' lo zoom di quella finestra, sì, se è possibile, altrimenti? Non cambia molto, vediamo il problema di fare così, non ho modo di, perché non risponde, ma solo che così, ok. Ok, no, ti complicava tutto. No, non mi complica niente, ma in realtà poi i contenuti, in realtà aumentiamo solo gli spazi, non è che aumentano le dimensioni. Dicevamo, facciamo così, in modo tale da poter vedere anche contemporaneamente questo, ok. Dicevo, proviamo a seguire le indicazioni per vedere che cosa combina. Abbiamo copiato il codice, lo incolliamo sul nostro terminale e poi lo eseguiamo. Lui adesso sta scaricando un container e lo ha già creato, eccolo qui, lo vedete? E poi contemporaneamente ha anche lanciato, vuol dire, materiale, diciamo così, utile a vedere che cosa succede lanciando questa applicazione. Quindi in realtà non vedremo grandi cose, in questo caso vi avviso subito, ma insomma abbiamo visto intanto che in maniera molto rapida è stata una semplice riga di comando, di quali torneremo ovviamente, è stato generato un container, in questo caso viene generato per questi esempi, per questi esempi di partenza viene generato in maniera random, e poi sostanzialmente vediamo se ci ha caricato qualche immagine, vedete che mi ha caricato anche un'immagine, guarda un po', che si chiama Getting Started, appunto questo prototipino, diciamo così, ad uso come bootstrap di partenza, insomma. Volumi ovviamente non ce ne sono e il resto non ci interessano neanche. Torniamo al nostro container, eccolo, vedete che qui nell'interfaccia abbiamo una serie di strumenti, tipo aprire un pannello di linee di comando, interrompere il container, riavviare il container, o addirittura chiudere e cancellare sostanzialmente il container. Lo cancelleremo fra poco, intanto proviamo a premere sul pulsante Open in Browser, non vedremo grandi cose, verremo dirottati su una pagina, su questa pagina qua, ok. Insomma, ha sostanzialmente, mi ha aperto un'applicazione che gira su Apache. Anzi, mi ha creato un'applicazione con Apache e mi ha lanciato l'home page iniziale tipica del server web Apache in questione, quella che ci dà il benvenuto, ci informa sul fatto che tutto sta andando a buon fine. Vediamo come invece utilizzare strumenti un po' più raffinati, diciamo così, a partire da questo avvio molto automatizzato, per ottenere risultati analoghi in partenza e poi evolvere piano piano verso la creazione di container più strutturati, con più layer a disposizione. Stoppiamo il nostro container, una volta stoppato, eccolo qui, si è stoppato, lo possiamo anche buttare via, che non ci serve più. L'immagine è rimasta, la facciamo fuori, che non ci serve. Ok. E vediamo come tenere invece, cominciare a lavorare in maniera un po' più personalizzata, appunto, con i strumenti, con i comandi forniti dal cli. Allora, vediamo intanto quali sono questi tipi di... indagare un attimino ancora sulle caratteristiche strutturali di Docker, più che sui concetti, diciamo così, più o meno strati su cui si basa. Docker, sostanzialmente, fornisce due tipi di servizi fondamentali. Il Docker Engine, Engine, scusate, sul quale praticamente è quello che utilizziamo mediante i nini di comando e che ci permette di realizzare le nostre containerizzazioni, e poi l'Hub, il Docker Hub, che è un repository, sostanzialmente, dal quale è possibile ottenere varie immagini utili ai nostri scopi. Sostanzialmente, abbiamo detto, un'immagine che cos'è? E' appunto, ci sono, immagino che vi avete già avuto a che fare con i cosiddetti file immagini, sono file che contengono appunto un'immagine di, in genere possono essere di un intero sistema operativo, oppure, come in questo caso, degli elementi, delle tecnologie necessarie a realizzare, magari mettendoli insieme nella nostra applicazione. Il container, invece, è un file system, appunto, diciamo, una micro macchina virtuale, che in genere contiene il file system, sulla quale poi è possibile, appunto, sulla quale vengono poi eseguiti i nostri file d'immagini, che possiamo, queste ultime, scaricarle appunto dal Docker Hub. Diamo un'occhiata al Docker Hub. Facciamo prima... Sì, almeno spesso. Ok. Esploriamo, nel caso di... Ok, vedete che qui ci sono tutta una serie di immagini. Per esempio, questa è l'immagine, grazie a quale possiamo caricare in un container un sistema operativo Ubuntu. Oppure possiamo caricare un database Postgres, SQL. Oppure, cito solo i più comuni, i più noti, possiamo caricare un ambiente di sviluppo Node.js, oppure un altro database, MySQL. Oppure un altro... Oppure un altro... Questo è un JDK di Java, ma questo non è da poco. C'è la possibilità, quindi, di utilizzare anche questo tipo di tecnologia, quindi un intero package di sviluppo, in questo caso l'ultima versione del JDK di Java, la versione è open, e, insomma, MongoDB e altri, un altro sistema operativo. Possiamo filtrare poi le nostre... Quello che ci interessa, anche in base a dei criteri, di sicurezza o di affidabilità o di certificazione di coloro che pubblicano queste immagini, normalmente è sufficiente per avere qualche risultato, perché così siano pochissimi risultati. Così siano... Anzi, così un po' di più, un po' di meno, scusate. Queste sono immagini ufficiali, quindi fornite direttamente da i creatori, gestori dell'Electrocongee stesse. E poi possiamo analizzare, cercarle per categoria. Per esempio, filtriamo solo i database, e abbiamo appunto la lista di database. Un'altra cosa importante è relativo a, soprattutto nel mio caso, visto che ho... Soprattutto per chi ha dei computer Mac nuovi o degli ARM Windows, che sono meno nuovi da questo punto di vista, è sempre meglio verificare se le immagini sono disponibili anche per il nostro sistema operativo ospite, diciamo così. Nel mio caso, per esempio, avendo un Mac con il chip, l'ultimo chip M1, devo assolutamente fare riferimento a questo tipo di filtro. Cioè, queste sono appunto, è, come dire, il repository o lab, come lo chiamano, di contenente tutte le immagini necessarie. Ok, andiamo a vedere un po' quali sono i comandi base. Ci sono vari modi per lanciare un'applicazione, un container con dentro l'immagine. La più semplice è quella che ci permette di creare e avviare direttamente un container e poi automaticamente disfarsi di tutto quanto è realizzato. Allora, possiamo cominciare a fare così. ci crediamo. Quindi, qui lo possiamo chiudere, questo lo possiamo chiudere e riaprire. Andiamo a verificare che non ci siano, non c'è nulla e non c'è nulla. Fantastico. Quindi possiamo creare ex novo i nostri esempi. Allora. Ugo, scusami. Dimmi. Possiamo migliorare un po' la qualità? Perché non vediamo molto bene quando apri Docker. Ma questo? No, allora, la presentazione, questo. Cioè, noi vediamo un po' strano. Tanto questo non lo vedremo più, praticamente. Ok. A parte gli scherzi. Purtroppo io non ho, vedete che non ci sono molte opzioni di configurazione perché aumentare la finestra significa solo aumentare gli spazi, in realtà. Ok, aumentare la risoluzione. Aumentare la risoluzione, questa è a doppia risoluzione, quindi... Tipo la risoluzione del monitor? La risoluzione è già 4K, quindi non potrei fare nulla di più. Ma tenete presente che, insomma, le cose che ci sono qui sono veramente minime, è quello che ci interessa, e come dicevo poco fa, scherzato se non serve il faceto, lo useremo poco. Ok. Adesso ci è servito come punto di partenza. Invece il terminale? Con questo posso fare tutto quello che vogliamo. Ok, perfetto. Ottimo. Dicevo. Grazie. Figuriamoci. Creiamoci un progettino. Allora, vediamo questa quella versione è. Ok, creiamoci un progettino sul desktop. Lo chiamerò MyPHP. MyScriptPHP. MyPHP. Anzi, MyPHP. 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 Ok. Poi all'interno, mi muovo all'interno di questo progettino, con, la cartella del mio progetto, che al momento non contiene nulla, ci mettiamo che cosa è dentro. Vogliamo creare un container con l'immagine dell'ultima versione di PHP, con una versione di PHP da 7.4 in questo caso. Quindi, tra l'altro, può essere molto comodo, di nuovo, per quelli che, magari hanno un Mac, Monterey, con l'ultima versione, in quanto nella versione, per esempio, Monterey del Mac, l'ultima versione del sistema operativo, non è più, dopo anni e anni, di supporto, non è più supportato, per esempio, il proprio PHP. E in questa occasione, può essere utilissimo, appunto, avere un container, o ci si installa PHP, a prescindere, ma può diventare un lavoro anche pesante, perché bisogna riconfigurare Apache, almeno per quello che ho verificato io, bisogna riconfigurare Apache, reinstallarlo, anzi, reinstallarlo, riconfigurarlo, insomma, la versione built-in fornita da Apple è appunto pensata per evitare di installare PHP per motivi di sicurezza che si sono riscontrati. E quindi, in questo caso, diventa cari a fagiolo la possibilità di utilizzare un container sulla propria macchina dove far girare, per esempio, appunto, un motore di esecuzione PHP. Andiamo, per comodità, per velocizzare, mi vado a prendere questo codice. Che cosa fa questo codice? Io qui ho messo dei commentini, insomma, abbastanza sintetici. per. Intanto, questa è una modalità per avviare, per creare e avviare in maniera ultra rapida un container che esegua qualche compito, ovviamente. Può essere una modalità utile per fare dei test, per imparare, come nel nostro caso. La caratteristica è che poi, tra le varie opzioni del comando, c'è la principale, diciamo così, che caratterizza questo tipo di modalità di utilizzo, che è appunto rappresentata dall'opzione trattino trattino rm che sta per remove, cioè una volta che l'applicazione ha svolto il suo compito e è stata eseguita, il container viene rimosso in automatico. Quindi è, diciamo così, una modalità usa e getta, possiamo usare questo termine, di eseguire un container con un'immagine, in questo caso un'immagine di PHP. Altre opzioni che vediamo, ovviamente ram serve a eseguire, ovviamente docker è il comando principale, run serve a eseguire appunto l'immagine all'interno dell'applicazione all'interno del container. Altre opzioni che possono sembrare astruse, ma poi tipo V, dollaro, PVD servono sostanzialmente a rendere eseguibile, a far diventare, a montare, come si dice, la diretta ricorrente in modo che sia quella che è deputata ad essere eseguita, a contenere il coce che deve essere eseguito. Altra opzione che ovviamente questa qua è assolutamente necessaria, qual è l'immagine che vogliamo utilizzare? In questo caso utilizzeremo l'immagine PHP della versione 7.4 e poi finalmente alla fine andiamo a chiedere di eseguire uno specifico nel nostro caso script PHP all'interno che verrà eseguito immediatamente. Allora dunque all'interno vogliamo che venga eseguito il codice che c'è scritto nel documento PHP nel file PHP MyScript PHP ci creiamo usiamo Visual Studio Code ma io non voglio aprire nessun file file nuova basta ok usiamo un po' di proprio un minimo di codice PHP ecco ciao dobbio mettiamo anche uno slash a capo e un punto e virgo ok salviamolo nel nostro progettino sulla scrivania abbiamo detto che si dovrà chiamare MyScript PHP mai punto PHP adesso lo scriviamo prima ok benissimo poi lo mettiamo nel nostro progettino nel cartello del nostro progettino e lui è il codice è lo script cioè è il file che contiene lo script che appunto che dobbiamo eseguire a questo punto possiamo copiare tutta la nostra stringa di comando e provare a eseguire il tutto ci spostiamo nella directory che contiene il progettino siamo qui incolliamo e vediamo cosa succede allora non trovo l'immagine PHP ah c'è anche un errore allora riproviamo un po' cosa c'è che non va allo spazzetto qua come va a gire poi vediamo di andare a eccolo qui intanto il risultato finale eccolo qui mi ha stampato ovviamente questo esempio base su linea di comando mi ha stampato nel il mio ciao docker che abbiamo prodotto mediante PHP e questo è il risultato finale vediamo che cosa è successo nel frattempo a parte l'errore che era dato da uno spazio qui che non ci interessava il primo step che abbiamo visto eseguire è enable to find image PHP 7.4 qui cioè proprio l'immagine è proprio l'immagine che appunto abbiamo chiesto di poter utilizzare all'interno del container questo perché ci sono due tipi di repository abbiamo detto uno è quello remoto cioè il nostro docker hub al quale abbiamo dato un'occhiata rapidissima e un altro è il cosiddetto chiamiamolo hub locale o repository locale cioè man mano che noi scarichiamo immagini utilizziamo immagini all'interno del nostro container questi vengono salvati in locale quindi viene effettuato un download e tenuti registrati appunto dal sistema in questo caso avendo io pulito tutto il necessario in modo da non avere troppi visticci diciamo così presenze all'interno dei miei esempi che cosa è successo che mi ha detto appunto guarda che non sono capaci di trovare l'immagine PHP 7.4 localmente la devo scaricare cioè devo fare un pull e qui la cerca invece nella libreria remota quindi nel nel docker app dopodiché fa una serie di verifiche va a scaricare un po' di documenti un po' di file scusate il necessario insomma e mi dà una 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 di criptografia che potrebbe sempre essere utile ma soprattutto alla fine per quello che ci interessa mi conferma ma che è stata scaricata una nuova immagine per appunto quella richiesta dopodiché abbiamo detto esegui immediatamente il comando successivo cioè esegui lo script ma è script PHP proviamo a fare una modifica allo script PHP semplice ovviamente no? non vogliamo fare grandi progetti in questo momento apriamo sempre con Visual Studio Code una cosa tipica che si fa quando si installa PHP all'interno di Apache è quello o comunque PHP è quello di stampare il classico PHP info un comando di mettiamoci un altro ecco sotto così vediamo da fine questo è un comando che sostanzialmente stampa tutti i dettagli informativi relativamente relative appunto alla versione di PHP che si sta utilizzando ok il file l'abbiamo modificato questo non c'è più questo non ci serve più rilanciamo il comando e vediamo cosa succede vedete qua questo è appunto sono tutte le informazioni relative al server scusate alla versione PHP le sue librerie insomma dettagli tecnici rispetto relativi alle caratteristiche appunto di PHP in questo caso i vari le varie estensioni utilizzate per esempio quella per SQLite o per altre tipo SQL o MySQL o quant'altro insomma questo ci conferma ulteriormente che ci dà le informazioni sui pad dove si trovano gli oggetti da utilizzare su le variabili di sistema eccetera eccetera e poi alla fine avremo di nuovo il nostro ciao docker eccolo qui che abbiamo messo sia in cima che in qua qui vedete che ci abbiamo messo un attimo a scaricare il container con l'immagine e in questo caso eseguire rapidamente con un semplice file PHP che insomma non voleva certamente rappresentare un'applicazione ma è comunque il codice PHP che viene eseguito correttamente da qui in poi diventa un lavoro di programmazione ovviamente non dipende più tanto dal container diciamo così il risultato dell'applicazione ma dal punto dalla quantità di codice che scriviamo per esempio in PHP per realizzare la nostra applicazione diamo un'occhiata qui eccolo qui vedete che di containers non ce n'è proprio perché abbiamo usato la versione usa egett la chiamiamo io cioè con il remove come opzione che rimuove il container non appena si è completata l'esecuzione dell'applicazione vediamo facciamo un passo ulteriore vediamo una versione non usa egetta ma un po' più strutturata allora intanto possiamo fare così intanto possiamo killare l'attuale applicazione quindi possiamo fare direttamente così intanto le opzioni le vedremo dopo volendo possiamo anche appoggiarci a questo e far fuori l'immagine per avere tutto pulito sempre in modo da vedere tutto ex novo ok non abbiamo immagini e non abbiamo container fantastico diciamo la versione è un po' più stabile diciamo così della possibilità quindi non usa egetta è quella che ci permette di scaricare di nuovo in locale un'immagine da docker ma in maniera appunto più persistente in questo caso usiamo il comando pull e poi scegliamo l'immagine che ci interessa in questo caso sceglieremo invece installare Apache che nel mondo nel mondo eccolo qui secondo Apache si chiama appunto il modulo l'immagine httpd quindi questo è il nome dell'immagine che vogliamo utilizzare in questo caso andiamo di nuovo a crearci quindi a scaricarci questa immagine questo container con questa immagine qui devo ingrandire ok mi sta scaricando e mi ha scaricato http latest l'ultima versione disponibile andiamo a vedere se per caso questa immagine è stata presa in considerazione ed eccola qui è lei qui stiamo usando lo strumento desktop solo per verificare un po' più rapidamente insomma che cosa abbiamo a disposizione fermo di install anche abbiamo altri comandi sempre da terminale per fare questa attività per esempio abbiamo broker images che ci permette di avere la lista di tutte le immagini guarda un po' che abbiamo stiamo utilizzando localmente ci dà esattamente la stessa informazione che abbiamo visto in versione destro un altro un altro un altro zoom un pochino scusami Ugo grazie ditemi voi perché io così va bene va bene un altro comando interessante è quello che ci dà la lista dei container noi non abbiamo al momento ma vediamo c'è docker ps o docker container ls più o meno vedete che non abbiamo container e in effetti se andiamo a guardare qui sì abbiamo un'immagine ma non abbiamo ancora il container su quale fanno girare ok a questo punto possiamo possiamo lanciare il nostro comando e eseguire il nostro serverino http usiamo di nuovo il comando la linea di comando di nuovo ovviamente dack e run poi d è un'opzione che ci permette di lanciare applicazioni in modalità cosiddetta detached staccata scollegata scollegata da che? sostanzialmente l'applicazione viene scollegata dal nostro terminale ed è utilizzata quando si devono lanciare applicazioni lanciare immagini che lavorano in background e tipicamente quando può lanciare un server http una volta lanciato insomma lo si lascia lavorare in background e si sicuramente si lavora ad altri aspetti si lavora sull'applicazione quando è necessario invece poter interagire con il terminale con l'immagine che è stata lanciata non si usa l'opzione dettagli poi possiamo normalmente lanciando il comando run docker crea per conto suo un nome diciamo random diciamo così un nome random all'applicazione volendo con l'opzione trattino trattino possiamo dare il nostro nome un nostro nome preciso all'applicazione in questo caso mai a pace visto che è quello che stiamo facendo che rappresenta poi abbiamo un'altra opzione che è questa che ha senso nel contesto di un'applicazione di un'immagine scusate che vuole lanciare un server web se vuole normalmente lavora su una porta che di default è la 80 ecco in questa maniera con questo comando questa opzione facciamo mappiamo facciamo un binding tra la porta del computer locale sulla porta del container dopodiché lanciamo finalmente la nostra immagine http di sempre lei quindi una volta scaricata l'immagine creiamo un container grazie al comando docker run chiediamo che venga collegato un container e in cui eseguire di nuovo il nostro in questo caso il serverino andiamo qui dobbiamo sempre andare no non dobbiamo andare nessuna parte se mi ricordo male ok questo dovrebbe confermarmi che il serverino è partito andiamo su localhost 80 anzi su localhost e vediamo se mi appare di nuovo la scritta che è apparsa prima stavolta però ce la siamo fatta noi a mano cioè il server lavora è proprio lui proviamo a stoppare la nostra applicazione quindi noi l'abbiamo chiamata MayaPace proviamo a usare quindi docker stop MayaPace ok adesso è stata stoppata e a questo punto possiamo anche rimuovere il container con il comando intanto vediamo che cosa c'è qui vedete che qui abbiamo il container MayaPace proprio quello che abbiamo creato adesso l'immagine l'immagine http che abbiamo pullato che abbiamo fatto effettuato il download andiamo a quindi a chiudere a rimuovere il container anche qui sempre con il comando docker remove il nome dell'app sempre MayaPace vediamo un po' vedete che il container è sparito è rimasta l'immagine possiamo far fuori ovviamente anche l'immagine ok in questo caso usiamo il comando docker image rimuoviamo che cosa abbiamo scaricato noi httpd fantastico rimuove l'immagine vedete anche l'immagine abbiamo pulito il nostro ambiente di lavoro abbiamo anche avuto voglia di dare un'occhiata a questi altri comandi di utilizzo abbastanza comune e semplice cioè ottenere la lista del container o delle immagini stoppare rimuovere quello che non ci serve più sostanzialmente però questa è una modalità appunto non usa getta in cui il container e l'immagine rimangono a disposizione per successive attività insomma un'ulteriore modalità è quella che ci permette di costruire definire un file di configurazione chiamiamolo così detto appunto docker file all'interno in questo file di configurazione possiamo definire una serie di comandi che equivalgono diciamo così per lo più a quanto abbiamo visto finora ma che permettono alla macchina di appunto anzi al motore di docker di fare riferimento a questo file di configurazione per ogni volta fornisce quello che ci serve in maniera ancora più persistente rispetto a quello che abbiamo fatto prima e in maniera anche più organizzato anche in questo caso possiamo crearci un progettino chiamiamolo my php ok anche qui vogliamo eseguire lo stesso script di prima quindi facciamo altro che prendercelo e incollarcelo anche in questo nuovo progettino stamperà le stesse cose prima magari togliamo togliamo quanto non ci serve intanto il php info non ci interessa e non ci interessa neanche due echi due stampe diciamo ok ciao docker chiamiamolo docker file ciao docker file ok adesso all'interno di questo progettino andiamo a crearci questo file appunto di configurazione questo docker file ci apriamo il nostro blocco note nuovo documento ci copio ci incollo questo che è stato pre-confezionato allo scopo possiamo ingrandire un pochettino la stessa roba che c'è qui e qui ci sono una serie di comandi appunto ulteriori per esempio from che rispecchiano quanto abbiamo in buona parte quello che abbiamo visto finora from che cosa fa crea un livello all'interno di docker ci sono vengono realizzati una serie di livelli uno è il container poi ci sono le varie immagini e poi sopra l'immagine è possibile creare ulteriori livelli che sono quelli sui quali poi effettivamente si va a lavorare si va a configurare ulteriormente il livello base fornito dall'immagine per esempio il nostro php set in questo caso quindi from crea un livello a partire dalla solita nostro php set che al momento vi ricordo non abbiamo più ma qui né qui né qui qui no soprattutto qui poi con il comando copy andiamo a definire qual è il percorso della diretta ricorrente in buona sostanza che è di nuovo questa cartella qui cioè dobbiamo lavorare qui dentro poi sì nel nostro caso potrebbe anche non essere necessario qui andiamo a definire la diretta di lavoro dove dovremo dove verrà eseguito effettivamente il container e poi di nuovo come abbiamo fatto un esempio usa e getta in questo caso usiamo l'istruzione cmd command cioè che cosa debiamo eseguire all'interno di questo progetto dobbiamo eseguire codice php che si trova in questo file stiamo facendo la stessa cosa di prima ma usando appunto un file di configurazione per quanto semplice l'abbiamo messo qui ok lo salviamo bisogna chiamarlo docker file senza estensioni docker file senza estensioni ok altrimenti non viene compreso me l'ha salvato col text lo mettiamo anch'esso nel progettino in modo tale che possa essere ok abbiamo il nostro locker file e il file che contiene il codice diciamo così php che deve essere eseguito a questo punto ci ci posizioniamo di nuovo quindi questo lo possiamo chiudere ok ci posizioniamo di nuovo nel nostro diretto di lavoro ok e poi usiamo i vari comandi che abbiamo a disposizione qui con questo comando build sostanzialmente costruisce l'immagine in questo caso dell'applicazione con un nome di nuovo che possiamo dargli a piacere in questo caso la chiameremo myphp punto anzi myphpapp ok sta facendo il suo lavoro c'è qualche problema nel file docker myphpproject l'ho chiamato che cosa ho scritto nel docker file non c'è lo spazio ma non c'è lo spazio qua mi manca qualcosa ci suggeriscono che c'è uno spazio dopo myphp trattino dove nel dopo qui c'è uno spazio dopo il minus nel docker file è nella e nella sono ok allora eccolo qua questo mi ha detto uno e due è il colpo delle slide ovviamente ok riproviamoci è partito adesso il secondo comando dopo aver buildato l'immagine costruito l'immagine con dentro anche il nostro file php di nuovo andiamo a lanciare l'applicazione con un comando analogo a quello che abbiamo usato prima ecco nel momento migliore si è si è disconnesso il do cambiare le batterie capita specialmente se si è senza fili sì allora una e due però i fili non li sopporto più quindi allora siamo qua ecco qua dicevamo qui adesso possiamo di nuovo lanciare il nostro container sperando che non ci siano altri spazzetti nocivi e vedete che di nuovo mi ha stampato il codice php in cui abbiamo aggiunto file dopo docker questo perché appunto nel docker file abbiamo chiesto le cose che abbiamo fatto finora cioè in salse diverse abbiamo chiesto appunto di eseguire di eseguire il codice presente in questo scritto questa volta mediante docker file che carica l'immagine definisce la cartella di lavoro e poi appunto esegue il comando il comando che abbiamo indicato beh direi che siamo arrivati giusto in tempo ok queste sono le informazioni di partenza utili a lavorare con docker ovviamente andremo avanti la prossima volta cercando di creeremo qualcosa di un po' più strutturato partendo appunto da questi mattoncini che abbiamo visto stasera per creare magari anzi senza magari per creare un ambiente in cui presumo devo ancora pensarci bene ma credo che butteremo giù qualcosa di molto non so ancora se faremo qualcosa in cui creare una serie di uno stack di sviluppo appunto che parte da Apache PHP MySQL per appunto poter lavorare con per sviluppare le applicazioni oppure se potrà essere più conveniente fare una cosa analoga ma magari usando Java e Angular quindi usare un back-end in Java containerizzato e lanciare un'applicazione Angular che funga che si muova come applicazione cliente ci sto pensando vedremo un attimino qual è la soluzione anche che mi è più facile come dire spiegare nell'arco di un'ora insomma certo va bene vediamo un po' sì ci sono una quindicina di domande quindi vedi tu sempre partendo dal basso come sempre allora la chat perché non la vedo sono sotto i comandi allora vediamo un po' devo partire sempre dal fondo vero? sì no io l'ultimo che vedo è nelle domande nella sezione domande scusate ma a quest'ora dunque domande ok allora Luca quindi come una cosa diversa da Cosgas nell'una e l'altra diciamo che Kubernetes è uno strumento grazie al quale possiamo nello sviluppo di applicazioni molto complesse magari appunto a microservizi intanto per restare in tempo c'è magari necessità di avere più container all'interno del quale far girare una parte un determinato tipo di tecnologia Kubernetes aiuta appunto ad orchestrare questi diversi container in modo tale che possano dialogare tra di essi quindi non è neanche parte di Docker è uno strumento architetturale diciamo così da questo punto di vista che riesce ci permette appunto di creare architetture di container gestite condivise in maniera ottimizzata e ottimizzare anche le prestazioni ovviamente ok ha già risposto domenico per me quindi siamo a posto perché parli di prezzi e beh ci sono come dire tutte le open source per esempio cioè tutto no però molti strumenti open source poi possono fornire una versione gratuita che poi e poi fornire altre versioni più evolute cosiddette enterprise che invece possono avere dei costi soprattutto se si appoggia a piattaforme cloud che non sono gratuite neanche per chi le propone insomma quindi è gratuito entro i limiti di una versione ad uso personale in quale ambito può tornare utile ad hoc per un programma che ti faccio proprio l'esempio che ti rifaccio l'esempio di prima nel senso che per esempio appunto io adesso con questo nuovo computer che ho da qualche tempo dovrei visticciare parecchio computer e con Apache cioè dovrei disinstallare Apache perché PHP non è più supportato dall'Apple e l'Apache che mi hanno installato in configurazione automatica ha delle opzioni di configurazione che impediscono di installare di aggiungere il modulo PHP quindi io dovrei disinstallarmi Apache installarmi una versione completa non configurata da Apple e poi su quella andare a caricare o scaricarmi tutto il materiale necessario librerie PHP insomma fai la solita trafila che ho fatto per anni potrebbe essere molto più utile invece avere a disposizione appunto utilizzare il container e crearmi un ambiente light in cui poter far girare le mie applicazioni PHP senza appunto dover perdere troppo tempo a installare e configurare un nuovo Apache e scaricarmi PHP eccetera questa è una soluzione sicuramente dipende più che dal programmatore single worker diciamo così dipende dalla dimensione dell'applicazione se un'applicazione veramente usa uno stack di tecnologie molto limitato con pochi strumenti potrebbe non avere tutto questo senso utilizzare la containerizzazione è un ambito c'è un'applicazione un software una piattaforma dedicata allo sviluppo di applicazioni enterprise quindi stiamo parlando di grosse applicazioni che devono essere appunto gestite possibilmente basandosi su microservizi quindi su più applicazioni che girano magari su macchine diverse su sistemi operativi diversi con stack tecnologici diversi una macchina che fa da server web un'altra macchina che mi fornisce un database un'altra macchina che lancia invece l'applicazione node o l'applicazione Angular tutti altri tipi di considerazioni o tipi di applicazioni ancora più complesse che possono essere realizzate quindi sicuramente è uno strumento ultra professionale per grossi prodetti riusciamo ad approfondire come utilizzare approfondire come utilizzare Docker in più e Kubernetes ma per migrare la propria app da un altro sistema no non abbiamo non è un corso dedicato a questo aspetto vedremo appunto come muoversi con i container come muoversi con Compose come muoversi con Kubernetes per orchestrare più container ma abbiamo solo due ore a disposizione si può ingrandire la schermata già fatto non ho ben capito lanciate qualcosa come capire effettivamente cosa c'è dentro il container ma il container è una micromacchina virtuale che a noi non ci interessa più di tanto a meno che non dobbiamo configurarla cioè voglio dire appunto una volta installato Apache scaricate le immagini di Apache come abbiamo fatto noi e lanciato il container all'interno del quale questa immagine viene eseguita poi inevitabilmente nello sviluppo di applicazioni reali e non questi esempi di partenza sarà necessario andare a configurare che so Apache ma non il container il container è una macchina una macchina virtuale che gira che ci permette di eseguire in questo caso PHP piuttosto che Apache piuttosto che appunto uno stack che contiene più tecnologie quello che effettivamente ci interessa è una volta che abbiamo pronta lo stack di tecnologie PHP Apache PHP MySQL posso anche aggiungere che so Wordpress c'è anche l'immagine di Wordpress per esempio potrei a quel punto creare le mie pagine il mio sito Wordpress senza dover installarmi sulla macchina a volte anche con fatica tutte le tecnologie di cui stiamo parlando le facciamo installare al Docker scegliendo le immagini che ci servono e poi da lì in poi cominciamo a creare il nostro sito Wordpress ma quello è tutto un altro lavoro il compito di Docker è proprio ridurre i tempi di installazione e configurazione di sistemi operativi tecnologie server e quant'altro per permetterci di passare subito diciamo così all'azione e cominciare a lavorare con il codice che crea l'applicazione che la sviluppa insomma quindi forse Luca mi ha preceduto cioè o è con me quindi Docker contiene la struttura dell'ambiente di sviluppo sì contiene l'ambiente di sviluppo e di esecuzione soprattutto nel senso che nel momento in cui tornando all'esempio che sto facendo per mantenere coerenza man mano che andiamo avanti in fine domande io mi creo un stack container che contiene più immagini l'immagine di Apache il server web un'immagine di un linguaggio di programmazione potrebbe essere PHP ma può essere appunto abbiamo visto anche OpenJDK può essere Spring per esempio poi ho il mio database può essere abbiamo visto MySQL piuttosto che Postgres piuttosto che altri e ho lo stack di tecnologie utili a sviluppare la mia applicazione poi comincio a scrivere codice sostanzialmente quindi Luca sì è così Dockers a tutti i comandi Linux no no è utilizzabile anche per chi conosce Windows ci mancherebbe io sono su Mac vabbè che Mac gira su uno Unix però è disponibile anche per Windows ma i comandi i comandi che abbiamo visto sono comandi Docker non tanto a parte alcuni tipo RM remove ma altri sono specifici che sono appunto storicamente arrivano da da dall'INU dall'ambiente lì ma altri sono comandi la maggior parte sono comandi specifici di Docker tipo D-Tetached che appunto ci permette di impostare le modalità con le quali deve girare il nostro container imposta i monitor a 1080x1900 risolvi grazie Paolo le porte contenizzate cosa intenti con portable apps ah quelle che si mettono nella chiavetta non è che può rispondermi potrebbe si possono fare anche così in effetti possono essere anche un modo per non ci ho mai provato non ci ho mai pensato ma potrebbe essere anche una soluzione per realizzare questo tipo di si mi conferma che era quello che intendeva app in chiavetta differenze sostanziali di performance beh si virtual machine abbiamo detto che è molto ripeto se io su un computer faccio girare il mio sistema operativo bene se ne faccio girare un altro e che gira tra l'altro su un altro software che è una macchina virtuale se avete mai avuto modo di lavorare con una macchina virtuale io avrei voluto farvi vedere la differenza ma visto il tempo che abbiamo a disposizione ho contato sul fatto che in qualche modo molti di voi abbiano già avuto modo di sperimentare a vario titolo l'utilizzo della virtual machine virtual machine è veramente di mezza le risorse diciamo così grossomodo a spanne di mezza le risorse del computer perché oltre a girare il mio bel monterei devo anche girare Windows 10 o Linux o quello che è insomma quindi con la stessa macchina devo far girare il sistema operativo container invece riducono drasticamente queste problematiche proprio perché si affidano a tutto quello che c'è sulla macchina del sistema operativo ospite quindi Mac Windows quello che è e aggiungono solo dei livelli leggeri appunto che sono le tecnologie le immagini che sono necessarie e il container che è in grado di appoggiandosi appunto il sistema operativo ospite di eseguire in maniera corretta i layer le immagini in situazione quindi c'è una drastica differenza di performance docker può interagire con un programma che è stato no questo io non ho mai verificato così a naso no non ho mai trovato nulla del genere ci ho pensato anche io qualche tempo fa ma poi non ho avuto modo di indagare perché non ho avuto necessità di farlo ma non credo che sia la documentazione che ho letto nelle occasioni che ho avuto utilizzarlo non ho mai avuto questo tipo di necessità né di richiesta però è una cosa sulla quale poiché mi ero già interessato a suo tempo posso tornare a interessarmi giusto per magari dare una risposta all'incontro di giovedì no il prossimo incontro che non so ancora quando sarà non mi ricordo a fine mese quindi ho tutto il tempo di cercare questa soluzione allora è possibile trasformare passante una macchina fisica linux in un container è possibile trasformare una macchina fisica linux quindi un computer in un container non te lo so dire ma questo è troppo tecnologico anche per me anche perché è un aspetto più come dire da sistemista diciamo così cosa che io non sono e quindi anche questo è un aspetto che non ho mai verificato è lontano dalle mie attività delle necessità primarie su cui è nata l'idea di docker potrebbe essere un modo di un po' come cosa la chiavetta potrebbe essere possibile ma non so quanto possa essere poi utile effettivamente perché si devia un po' dall'obiettivo di docker ho una macchina di sviluppo ci carico i miei sistemi lo posso trasportare ovunque su qualunque macchina riccreo lo stack di tecnologie e faccio girare le mie applicazioni questo è uno dei vantaggi di docker non tanto di avere tutto sulla propria macchina ma di averla ma poterla distribuire ovunque si può cercare ovviamente la interfaccia web no o la linea di comando o docker desktop noi abbiamo fatto entrambe le cose docker desktop l'abbiamo visto per fare prima vedere senza lanciare troppi comandi per visualizzare la lista dei container o delle immagini per velocizzare l'operazione ma è uno strumento fantastico in alcuna occasione basta premere un pulsante e lanciare l'applicazione specialmente se il container e le sue immagini rimangono attive sulla macchina non in modalità use e get un container si può interfacciare con la macchina madre nel senso un container che possa creare il container e la macchina madre non ho capito nulla ti prego di riformare una domanda la prossima volta se puoi grazie materiale didattico le slide ovviamente come sempre Maria Luce le inseriremo le inseriremo come sempre nella descrizione dove salveremo il video domani sul nostro canale youtube quindi potete scaricarlo direttamente da lì la domani mattina ok se si sviluppa in php non è meglio usare example analoghi se si sviluppa per hobby sì se invece si sviluppa per lavoro direi assolutamente no 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 e tre punti schermativi xamp è abborrito lavora anche con microsoft net io microsoft net non lo utilizzo da 18 anni quindi non ne so più nulla non so neanche se va avanti con chi dialoga eccetera quindi francamente non so verifico tanto si dovete trovare una soluzione una risposta a questo tipo di eventuali necessità quando ci sarà il prossimo webinar l'abbiamo già detto è il 31 marzo è possibile dare un limite di risorse che può usare un docker sì si può configurare appunto si possono configurare alcuni aspetti dei container del docker allora quando si terrà il prossimo webinar l'abbiamo già detto la licenza free e a pagamento l'abbiamo già detto e basta altre domande questa qui sarà possibile non so se ce la facciamo tutta questa roba in due ore vediamo se riusciamo bene se no io comunque il mio progetto era oggi passare il piano d'azione diciamo così dei webinar oggi vedere le basi poi fare qualcosa di un po' più corposo di un semplice http o di un semplice php quindi mettere su uno stack di tecnologie un po' più strutturato appunto vi dicevo magari java più angular piuttosto che da apache fino a mysql magari anche wordpress vediamo un po' e questo sicuramente ci impegnerà la prossima incontro e poi l'ultimo incontro lo volevo dedicare a un po' a compose e un po' a kubernetes quindi per verificare valutare anche cosa si può fare appunto per avere più container sulla stessa macchina o più container su macchina ok vediamo se ci sono c'è un'ultima domanda do che la parte quali sono le piattaferme alternative gratuite non lo so non ho mai io in genere seguo seguo come dire un cosiddetto mainstream mi occupo delle tecnologie che mi sono richieste dal mercato e che tra virgolette aiutano anche aggiungere il pane al companatico come si dice e quindi non avendo 27 ore al giorno a disposizione lavoro su tecnologie che sono in trend che sono oppure consolidate quindi java piuttosto che angola piuttosto che doc e quindi in genere non mi interessa tanto delle alternative sulle quali nessuno mi chiederà mai un'attività di sviluppo né a un corso o cose di questo tipo sicuramente c'è qualcosa di alternativo ok perfetto credo vediamo l'ultimissima forse c'è un'ultimissima domanda no una risposta ok perfetto va bene Ugo direi che abbiamo concluso è stata abbastanza lunga ma interessantissima quindi noi ci vediamo a fine mese vi invieremo ovviamente l'invito per questo webinar e per tutti gli altri webinar in programma volevo condividere con voi cosa che non faccio no al nostro gruppo fake dedicato proprio ai automatici quindi richiedete di iscrivervi come sempre vi ricordo che siamo su tutti i canali social quindi decidete voi quale social utilizzare per seguirci e per magari commentare i nostri contenuti detto questo vi saluto grazie per essere stati con noi grazie mille Ugo ci vediamo grazie a te mangiare la voce grazie a te Maria Lucia grazie a tutti alla prossima occasione buona serata arrivederci ciao